Ed ora cambiamo argomento sul territorio di Pontevico nel Bresciano, in programma la realizzazione di una centrale idroelettrica. Si tratta di un impianto molto discusso, a breve, a giorni ci sarà anche la conferenza dei servizi. Questa sera ho il piacere di ospitare nei nostri studi Luca Bosio, che è il coordinatore degli enti dei cittadini che hanno presentato le osservazioni in vista appunto della conferenza dei servizi. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E la signora Anna Maria Rosa Casarotti, che è una picoltrice agronoma. Buonasera. Buonasera. Dunque, signora Bosio, partiamo da lei. Ci faccia un po' il punto della situazione appunto per questo progetto. Sì, intanto è un progetto che andrà a impattare molto negativamente sulla cittadina, sul paese di Pontevico, dove è prevista la realizzazione appunto di una centrale idroelettrica composta da uno sbarramento fisso realizzato in cemento armato che appoggerà sull'alveo del fiume Olio e uno sbarramento mobile. Il tutto per un'altezza complessiva di circa 5 metri. Siamo arrivati alla terza conferenza dei servizi che verrà tenuta in provincia di Brescia il 27 settembre. Le altre due conferenze di servizi, di cui l'ultima fatta nel 2015, hanno fatto emergere una serie di criticità e di pareri negativi da parte di una serie di enti, fra cui la superintendenza, la provincia di Cremona, l'ufficio Pesca e altri enti e comuni. Questo appuntamento del 27 settembre è l'appuntamento decisivo e finale. Noi come promotore e assieme ad altre persone che si sono mobilitate per informare prima di tutto la popolazione abbiamo cercato di porre l'attenzione su alcuni fonti e fattori di rischio e di criticità. Innanzitutto, data l'importanza del progetto e l'impatto che avrà, la cosa che subito ci ha colpito è il fatto che la popolazione non sia mai stata informata adeguatamente. Abbiamo cercato di farlo noi con dei volantini che informassero la popolazione. Purtroppo l'amministrazione ha cercato di tenere un profilo molto basso su questo problema, non ha mai cercato di informare adeguatamente la popolazione e sentire il parere della popolazione. Altri fattori di criticità sono emersi dall'analisi dettagliata che abbiamo fatto del progetto presentato. Il progetto è stato variato rispetto a quello presentato nell'ultima conferenza di servizi dell'anno scorso, ma rimangono comunque i fattori di rischio che già erano presenti nell'altro. Un fattore di rischio legato al fatto che la diga sorgerà a ridosso dell'abitato di Pontevico, nella zona Borgo, che è la parte più bassa, è una zona che già in situazioni normali viene colpita da inondazioni e esondazioni. L'ultima risale al più o meno inizio degli anni del 2000 e poi si risale indietro nel tempo. Quest'ultima, fra l'altro, ha portato anche alla chiusura della strada statale che collega Brescia e Cremona. Quindi, forti fattori di rischio, 50 famiglie che abitano in zona e rischio molto elevato per le persone. Signora Casarotti, questa centrale dovrebbe sorgere tra la vecchia cartiera di Pontevico e l'Istituto Cremonesini. Lei abita proprio lì in zona. Perché è contrario a questo impianto? Allora, io sono uno dei proprietari, fra l'altro, di questa vecchia cartiera e ho il terrore delle piene, avendole vissute e sperimentate sulla mia pelle. Sapendo quanto l'acqua può essere forte e devastante quando non la si può controllare. Il fiume Olio è di fatto un'autostrada per quanto riguarda il trasporto dell'acqua perché ha un bacino imbrifero enorme che comincia praticamente dalla Val Camonica e io ritengo, da pazzi e scelerati, pensare di realizzare una struttura che entra in alveo e lo riduce come dimensioni e sperare che poi le piene non facciano danni. Ecco, quindi io quando ho visto, ho sentito e poi ho visto questo progetto veramente sono inorridita e ho pensato che il proponente abbia intenzione di affogarci fondamentalmente. Fra l'altro il proponente ha realizzato tutta la progettazione mettendo in conto di utilizzare dei terreni, delle piccole aree private nonché la strada private di accesso alla mia abitazione e quella di altri senza peraltro mai contattarci, cioè noi abbiamo saputo di questa centrale tramite i mezzi di stampa, tramite la stampa. Benissimo, allora torneremo poi appunto a parlare ancora di questo argomento appunto in vista del 27 settembre quando poi si svolgerà la conferenza dei servizi. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie, arrivederci. Buonasera.